amici buonasera a tutti siamo in attesa del primo agosto siamo allo stadio franco scoglio sono le 23.27 aspettando l'ingresso del primo agosto i figli e di Noritana 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 tocca con i piedi e cammino con la porta sopra quelli bambini e non capisco niente i cani sono cari la piaccia della gente un animale non mangia un animale strana sono una figlia di figlia di Noritana sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze sono figlia di una certa famiglia